Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra rena dell'auto e con Elite Car in questo splendido posto. Naturalmente accanto a me Alberto. Ciao Alberto. Ciao Rosi, un bel ritrovati a tutti. Prima di iniziare con le occasioni di questa sera vi ricordo che Elite Car si trova a Magenta, in Corso Italia 40. Molto facile da raggiungere, prendete la Milano-Torino, uscita Marcallo-Mesero e ci trovate sul lato destro della carreggiata dopo circa un chilometro. Quindi direi di non perdere altro tempo e iniziare a parlarvi delle occasioni splendide di Elite Car di questa sera. Prima di parlarvi di classe A vi ricordo che Elite Car è importatore diretto di questo prodotto. Quindi siamo i primi, la prima struttura ufficiale italiana come numero di vendita che importa macchine da Stoccarda, prodotto certificato, con chilometri certificati dalla casa madre. Torniamo alla classe A, ormai la conoscete tutti. Macchina fantastica, motorizzazioni disponibili, benzina, diesel, cambio automatico, cambio manuale. Super accessoriate, intendo navigatori, fari full LED, sensori di parcheggio, parcheggio automatico assistito e così via. Macchine con chilometri certificati, ripeto, possibilità di estensione e garanzia terzo e quarto anno. Super valutazione del vostro usato, anche da rottamare. E tassi di interesse agevolato per quanto riguarda finanziamenti leasing e maxi mini rate. Prezzi straordinari, anche in previsione della nuova classe A che uscirà a breve, a partire da 19.900 euro, più le spese di messa in strada. Ovviamente nell'alfabeto italiano, dopo l'A c'è la B. Quindi proseguiamo in classe B, vettura straordinaria con un'ottima capacità di carico, un'ottima abitabilità interna, quindi una vettura adatta per famiglie, ma anche non. Anche in questo caso vetture aziendali, vi ricordo, con pochissimi chilometri, ancora coperte da garanzia ufficiale casa madre. Possibilità anche in questo caso di estensione di garanzia del terzo e del quarto anno. Ottimo prezzo, anche essa a partire da 19.900 euro più spese di messa in strada. E super valutazione del vostro usato, tassi di interesse agevolato anche in questo caso per quanto riguarda leasing, finanziamenti e maxi mini rate. Vi ricordo che tutte le vetture tedesche di importazione, ma anche vetture comunque aziendali a chilometro zero, possono essere rifatturate al 4% per chi avesse purtroppo l'agevolazione con la legge 104. Ed ora passerei alla prossima vettura. Ed ora continuiamo a parlarvi di prodotti aziendali provenienti dalla fabbrica. Anche in questo caso vetture con chilometraggio certificato, possibilità di estensione di garanzia terzo e quarto anno, vi ricordo, super valutazione del vostro usato, anche rottamazione, possibilità anche di rifatturare la vettura al 4%. Tassi di interesse agevolato per quanto riguarda finanziamenti leasing e maxi mini rate. Parliamo di CLA, troverete sempre prodotti molto freschi con pochissimi chilometri, sia modello coupé che shooting brake, quindi il modello station wagon. Possibilità, ricordo, anche cambio automatico e cambio meccanico, super accessoriate, ripeto, con chilometraggio certificato. Ed ora passiamo al segmento successivo. Proseguiamo con le occasioni di questa serie, vi parliamo di GLA, crossover di casa Mercedes, anche in questo caso vetture aziendali con pochissimi chilometri certificati dalla casa madre. Vi ricordo vetture con motorizzazione benzina, motorizzazione gasolio, con cambio meccanico, cambio automatico, super accessoriate. Prezzi a partire da 25.900 euro più spese di messa in strada. Entriamo nel segmento C e vi ricordo che anche per questo prodotto troverete sia la versione Berlina, Station Wagon, Coupé e anche GLC, quindi la versione SUV. Prezzi fantastici a partire da 27.900 euro più spese di messa in strada. Super accessoriate, fari full LED, navigatore satellitare, sederi riscaldati, pelle e tessuto interno, anche volendo pelle totale, presa USB, Bluetooth telefonico e streaming, quindi vetture veramente complete. E prima di passare al segmento successivo vi ricordo che queste vetture vanno rifatturate, quindi va benissimo anche per chi ha un'azienda o un libero professionista con partita IVA, viene rifatturata al 22%. Se parliamo del possessore della legge 104, quindi IVA agevolata, si può rifatturare al 4%. Parliamo di GLC, SUV di casa Mercedes, super accessoriati, pochi chilometri, certificati, a partire da 44.900 euro. A breve arriverà anche la versione Coupé. Passiamo in classe E, troverete vetture aziendali con pochissimi chilometri, sia in versione Berlina che Station Wagon, con un nuovo propulsore 1950 di cilindrata e una potenza per il motore gasolio che va da 150 a 194 cavalli, a trazione posteriore o anche 4x4. Prezzi straordinari a partire da 31.900 euro più spese di messa in strada. Vi ricordo in Elite Carter, vedete anche l'intera gamma Smart con modelli 4-4 e 4-2 a cambio meccanico e cambio automatico a doppia frizione. Super accessoriate, pochissimi chilometri, certificati dalla casa madre. Prezzi a partire da 7.900 euro più spese di messa in strada. Anche in questo caso vetture da rifatturare con IVA al 22% o anche al 4%. Ed ora cambiamo brand e andiamo a parlarvi di Volkswagen e Audi. Iniziamo con la gamma Up, in Elite Car troverete sia versioni 3 e 5 porte, tutti gli allestimenti, primo impianto, cambio meccanico ma anche cambio automatico. Vetture nuove a partire da 8.200 euro più spese di messa in strada e IPT. Motorizzazioni disponibili, 1.000 benzina da 60 a 75, 90 cavalli ma anche una vettura ibrida a gas con 68 cavalli. Continuiamo a parlarvi di Volkswagen e vi parliamo della regina di questo momento, la nuova Polo. Ultima generazione, una vettura di 4,06 metri di lunghezza con un'abitabilità straordinaria e un portabagagli immenso. Vettura a trazione anteriore, come primo impianto cambio meccanico ma anche possibilità di cambio automatico DSG a doppia frizione. Cosa a dire di più di questa macchina? Una vettura innovativa, motori, 1.000 benzina pulitissimi a partire da cavalli 65, 75, 95, 115 ma anche un propulsore diesel 4 cilindri da 80 e 90 cavalli. Per quanto riguarda allestimenti abbiamo una Trendline, una Comfortline e una Highline. Prezzi fantastici a partire da 10.900 euro più spese di messa in strada e IPT. Signori, vorrei sottolineare come faccio di solito che i prezzi che io vi vado ad elencare sono già scontati, una percentuale abbastanza importante di sconto e anche abbiamo dedicato un premio flat che la Volkswagen ci dà. Quindi su ogni vettura c'è un premio flat in soldi che andiamo a sottrarre nel costo dell'auto. Ovviamente partiamo sempre sul modello e la motorizzazione base d'entrata. Poi quando venite a trovarci vi spieghiamo le differenze e l'eventuale aggiunta di accessori. Anche in questo caso valutazione del vostro usato, rottamazione, tassi di interesse agevolato per quanto riguarda l'ISI finanziamenti e maxi minerate. Quindi venite a trovarci perché Polo sicuramente sarà la vettura che fa per voi. Continuiamo a parlarvi di Volkswagen e vi parliamo di nuova T-Roc. E prima di entrare nel vivo di questa vettura vi ricordo che le vetture che state vedendo sono tutte nuove da immatricolare. Parleremo anche in seguito della trasmissione di vetture aziendali. Comunque, tornando a nuova T-Roc, anche in questo caso nuova crossover di gamma Volkswagen, cilindrata disponibili anche in questo caso abbiamo 1000 benzina a 115 cavalli o altrimenti passiamo ad un 1500 benzina con possibilità di cambio automatico con 150 cavalli. Se entriamo a parlarvi di diesel abbiamo motorizzazioni 2150 cavalli, cambio manuale, cambio DSG automatico a 4 ruote motrici. Versioni disponibili style e advanced, vetture super accessoriate allo splendido prezzo di 19.800 euro più spese di messe in strada e IPT. Continuiamo a parlarvi di Volkswagen e in questo caso entriamo in gamma Golf, Golf 7, ormai la conoscete tutti. Vettura comunque sempre nuova, ripeto. Per quanto riguarda motorizzazioni benzina, diesel e anche benzina metano, disponibilità di cambio meccanico e cambio DSG. Quindi qualsiasi tipo di allestimento e colore, prezzi a partire da 16.200 euro più spese di messe in strada e IPT. Vi ricordo molto importante, su tutta la gamma Volkswagen è inserito un sistema di sicurezza che si chiama Front Assist, quindi diciamo in relazione all'attraversamento del pedone, la vettura frena in automatico. Quindi signori per la vostra sicurezza è un prodotto veramente innovativo e sicuro. Per quanto riguarda il software, quindi la parte telematica, tutte le vetture Volkswagen sono dotate, ovviamente alcune a pagamento, alcune di serie, di un software che si chiama App Connect. È un sistema che interfaccia col vostro smartphone e gestisce le app del vostro telefono, compreso il navigatore del vostro telefono che non deve essere aggiornato, all'interno del gruppo radio. Quindi una cosa comodissima. Quindi venite a trovarci perché anche sicuramente in Golf troverete, oltre alla versione che state vedendo, anche la versione station wagon, ovvero variant, o altrimenti sport van. Ed ora vi parliamo di nuova Tiguan, vettura straordinaria, gamma SUV in casa Volkswagen, vettura che nasce con trazione anteriore ma anche 4x4, cambio meccanico e cambio DSG doppia frizione. Vari allestimenti colori, motorizzazioni straordinarie, bassi consumi, prezzi a partire da 22.200 euro, più spesi di messa in strada e IPT. Per questione di tempo ci scusiamo, ma non riusciremo sicuramente a farvi vedere il resto della gamma che troverete qui in Elite Car, ma troverete comunque anche gamma Audi, vetture aziendali sia gamma Audi A1, A3 e gamma A4, ma anche Q3 e il resto della gamma Audi, con prezzi eccezionali per il motore benzina di gamma A1, a partire da 15.900 euro, più spesi di messa in strada. In arrivo a brevissimo, vetture sempre segmento A1, con motore 1.6 diesel, 116 cavalli, full optional, a partire da 18.900 euro. Quindi signori, non mi resta che ringraziarvi per il tempo che ci dedicate sempre e vi ricordo che Elite Car si trova magente in Corso Italia 40, veramente molto facile da raggiungere. Prendete la Milano-Torino, uscite Marcallo-Mesero e ci trovate a direzione Abbiategrasso sul lato destro della carreggiata. Grazie a tutti e una buona serata. E anche un ottimo rapporto legato a che cazzo sto dicendo, il rapporto di chi? Troverete vetture aziendali con pochissimi... L'intera gamma Smart come modelli 4.2 e 4.4, a cambio... Mecca... Ma... Can... Can... Eh? Non ho capito. Continuiamo con gamma Volkswagen, riconda... Riconda... Ricongongongi... Aspetta un attimo. Prima di elencarvi le dotis... Piaceli... Se... Eh? Piaceli... Se... Piaceli... Se... Eh? Come cazzo sto parlando? Ormai chi non conosce Golf, la pietra miliare, diciamo, della... La pietra miliare fa veramente cagare. Scusami, scusami, scusami... Scusami, scusami... La pietra miliare. Cazzo! L'avete visto Harry Potter? È la regina delle autovetture di questo scrivimento... Cioè... Cioè... Eh? È una vettura che ormai penso conosce ogni persona di questo mondo, di questo universo e quindi vado a casa perché... Ho detto una minchiata. Vetture casa madre. Che cazzo sto dicendo? Benvenuti nel Tcara, struttura italiana... Struttura italiana... Torniamo e passiamo perché... Allora... E allora... E' vero? Sei forte? Ma non che bagliate qua. E che? Che ballettino qua puoi fare. Aspetta. Questo qui c'è l'interno. Eh? C'è l'interno. Eh? C'è l'interno.